incredibile ma vero non c'è nessun titolo clickbait in questo video questo è il nuovo dji neo non uno ben due ancora sigillati e questo è l'over air x1 quello che di fatto ha dato vita a questo nuovo settore di droni andiamo a vedere cosa è e come rivoluzionerà il mercato dji con questo nuovo micro drone nuovo video totalmente inaspettato come vedete non siamo in italia è oltre un mese che ci troviamo nel sud est asiatico in questo momento siamo a kuala lumpur e totalmente a caso abbiamo avuto l'occasione di trovare in anteprima il nuovo drone dji neo e con il merdeka 118 alle nostre spalle andiamo a scoprire insieme in anteprima il nuovo drone dji neo nuovo selfie drone che dovrebbe spaccare totalmente la concorrenza soprattutto quella che ha funzionato meglio di over mai avrei immaginato come da titolo di essere qui a raccontarvi in anteprima del nuovo drone di casa dji avrei voluto pubblicare prima questo contenuto ma fino a ieri siamo stati beatamente alle isole per hanshan e quindi non abbiamo avuto grandi possibilità di caricare prima questo video comunque andiamo a vedere così tra durian cocchi umidità pazzesca e palazzoni giganti come questo facendo qualche ricerca ho trovato un bel po di negozi dji qui in malesia ci sono un'infinità di negozi diretti dji quindi dj store e negozi indiretti quindi normali rivenditori ma anche negozi hustle blood così chiedendo negozio dopo negozio se era già disponibile il dji neo alla fine lo abbiamo trovato ma prima se vuoi supportare altri video come questo iscriviti al canale qui in basso a destra ma soprattutto questo contenuto è stato reso possibile dallo sponsor di questo video nordvpn e così dall'aeroporto di kuala lumpur grazie a nordvpn possiamo girare la discriminazione dei prezzi e prenotare un volo super economico per andare a sbloccare un nuovo paese ci colleghiamo così al wifi dell'aeroporto andiamo ad aprire il nordvpn ci geolocalizziamo in un posto favorevole e soprattutto mettiamo a riparo la fuga dei dati ed è così che con soli 34 euro siamo riusciti ad acquistare un volo andata e ritorno ma i vantaggi ovviamente non finiscono qui con nordvpn potremmo lavorare da qualsiasi parte del mondo anche qui in totale sicurezza così anche noi mentre siamo in ferie possiamo finalmente aggiornare il nostro blog ma non solo lavorare in sicurezza da qualsiasi parte del mondo ma avere anche la possibilità di usufruire di contenuti che sono bloccati all'estero e quindi se vuoi supportare il canale ma anche avere tutti i benefici di navigare online con la massima protezione possibile clicca sotto supporterai il canale supporterai altri video come questi ma soprattutto aiuterai te stesso a navigare nella massima serenità tra l'altro per chi acquista dal link sotto in descrizione un piano biennale riceverà quattro mesi gratis per il suo abbonamento e sei mesi gratis da regalare ad un amico oppure ad un parente dji non ha ancora comunicato la data ufficiale di lancio sicuramente almeno in questo momento in cui sto registrando il video ancora non è certa la data di uscita anche se chiedendo ai vari negozi in giro per la malesi appare sarà quella del 5 settembre comunque andiamolo ad aprire insieme sono particolarmente curioso di andare a vedere se effettivamente questo nuovo drone di casa dji sarà davvero interessante ed utile per alcuni scenari vi avevo già portato sul canale la recensione anche dell'over air x1 drone sicuramente interessante perché possiamo portare in vacanza con noi al pari di uno smartphone dentro la tasca dei pantaloni ovviamente non riusciremo a tirar fuori dei video incredibili ma certamente dei ricordi di viaggio o di famiglia quello che sia certamente sì e senza nessun tipo di impegno con zaini stra pesanti come di solito faccio io questo drone chiamarlo forse selfie drone può essere riduttivo notiamo già dalla scatola una serie di elementi molto interessanti questa è la versione base da 199 euro e l'elemento interessante che vediamo subito qua dalla scatola è che riporta la marcatura di classe c0 se seguite il canale altrimenti iscrivetevi qua in basso a destra attivate la campanella per non perdere poi anche il video completo della recensione io avevo criticato particolarmente la marcatura di classe c0 soprattutto sul dji mini 4 pro perché quello è un drone che mi deve dare la possibilità di volare soprattutto se sono in scenari collinari o di montagna anche a quote più alte rispetto al punto di partenza quindi al pari del mini 3 pro che ho deciso di tenere per me ma in un contesto come questo con un drone da 135 grammi avere una marcatura di classe c0 che ci darà la possibilità di volare in qualsiasi scenario anche di città allora si accetto molto volentieri perché questo ci dovrebbe dare dei bei vantaggi ecco a voi ancora da spellicolare il nuovo dji neo sta davvero nel palmo della mano e è davvero carino già così contenuto la confezione molto basico come possiamo notare d'altronde la versione base non sono riuscito a prendere una versione combo e qua troviamo il classico astuccino con le eliche di ricambio e cavetto usb c type c con il solito giravite che troviamo anche sui dji mini per fare il cambio delle eliche non rimane che andare a fare questo unboxing volante dalla spiaggia del dji neo eccolo a voi signori il nuovo dji neo entra nel palmo della mano come è scritto nella scatola ovviamente un drone capace di partire dal palmo della mano qua vediamo subito sulla parte anteriore esattamente come l'over air x1 tutte le modalità automatiche i quick shot parlando in ambito dji che ci consentiranno senza utilizzare nessun controllere e senza utilizzare app di portarci a casa delle riprese direttamente premendo e scegliendo la funzione di nostro interesse quindi potremmo fare un overing semplice potremmo fare l'inseguimento che tornerà molto utile non vedo l'ora ovviamente di portarvi qua il test completo anche in confronto all'over air x1 e tutte le altre funzioni che abbiamo già imparato a conoscere sui soliti classici modelli dji come possiamo vedere dal manuale l'app sarà ancora la dji fly app che è stata quindi aggiornata ci sarà una nuova app dedicata a questo drone ma sempre all'interno della dji fly e questo è il tradizionale funzionamento che parte direttamente dal palmo della mano senza utilizzare nient'altro se vado a fare anche la scansione di questo qr code per i vari video tutorial ovviamente la pagina non è stata ancora trovata abbiamo per l'occasione un sensore da 0,5 pollici come era il vecchio dji air 2 e questo ci consentirà comunque di portarci a casa delle riprese tutto sommato buone sarebbe interessante in realtà capire se un drone da 135 grammi riuscirà a sostenere il peso di una gopro naked perché in ambiti indoor un sensore del genere mi convince un po' meno soprattutto se stiamo approcciando quel volo per finalità lavorative qui abbiamo i paraeliche che possono essere rimossi facilmente tirando su e vanno ad incastro e questo ovviamente sarà necessario da fare se ci sentiamo più confidenti se non utilizziamo magari quelle funzioni automatiche che quindi ovviamente non avendo sensori di evitamento ostacoli rischiano di far scantare il nostro drone ma con i paraeliche siamo super sereni anche per quanto riguarda la marcatura di classe c zero portarsi un drone in centro città a roma per farsi due foto in quelle zone dove ci è concesso o magari sempre facendo i permessi di volo per il drone ci consentirà anche con la presenza dei paraeliche di stare super super sereni ed eccolo qua questo è il drone da un lato come sarebbe senza i paraeliche e dall'altro con i paraeliche ovviamente la batteria è microscopica in linea con tutto il resto del drone ma che dovrebbe garantirci minuti a sufficienza per realizzare tutte le nostre riprese del caso ovviamente nella versione combo ne sono tre il costo della singola batteria dovrebbe girarsi intorno ai 35 euro credo poi sto facendo le conversioni con la moneta malese quindi con il ring it però più o meno dovrebbe essere 35 euro qui invece sul lato possiamo notare la marcatura di classe c zero ora non so se con il sole è sufficientemente visibile comunque è qua esattamente qua c zero e questo ovviamente ci darà tutti quei benefici tipici del nuovo regolamento europeo e se da un lato possiamo certamente affermare che dji si è lasciata come minimo ispirare dall'over air x1 dall'altro però possiamo assolutamente dire che over ha lanciato un nuovo concetto di droni sul mercato tra l'altro pochissimi giorni fa proprio per contrastare la nuova uscita del dji nio over ha lanciato l'ennesima campagna di crowdfunding su indiegogo dove ha lanciato i nuovi modelli over air x1 pro e pro max due droni certamente molto interessanti soprattutto il pro max perché il pro ha un sensore da 0 5 il pro max invece ha un sensore come il mini 4 pro da 0 76 pollici e ci permetterà di fare tantissime cose soprattutto con l'utilizzo del beacon che ricorda un po' quello di sky dio 2 e che dovrebbe garantirci da un lato un tracking perfetto dall'altro anche la possibilità di trasformare il beacon in un controller e quindi avere di fatto in mano un drone quasi normale ed è qui forse il passo in più che ha fatto dji perché da un lato il prezzo il prezzo batte a mani basse over pensate che questo che il modello vecchio lo trovate ora su amazon intorno ai 400 euro mentre la versione base e questa è sempre la versione base a 400 euro la versione base del dj nio come dicevo prima 199 euro l'over air x1 pro max invece arriverà a costare nella versione combo oltre 1000 euro che io ritengo essere una cifra folle per un drone che ci consente di fare poco più che dei banali ricordi con movimenti automatici quindi per quanto super interessante per quanto super comodo portare con sé in viaggio dentro la tasca di pantaloni ma spendere più di 1000 euro per un drone di questo tipo con un sensore come quello del mini 4 pro ma che non mi dà la possibilità di fare tutto quello che posso fare con il mini 4 pro a mio avviso ha poco senso a quel punto preferisco puntare su un classico air 3 mavic 3 e via dicendo e quindi se da un lato dj si è fatta prendere un po la mano con degli spunti certamente simili banalmente guardate i tasti per accedere alle funzioni automatiche dell'uno e dell'altro però c'è da dire che forse dj ha mantenuto un po fede a quella che è la sua logica in ambito droni e ha cercato di dare di più cosa ha cercato di fare quindi di più rispetto ad over al di là del prezzo ma questo è dovuto anche alla possibilità di mercato che dj ha e che over non ha abbiamo la possibilità di controllare il nostro dj nio con il classico radiocomando dj quello base per intenderci ma soprattutto avremo la possibilità di connetterci con i nostri visori i dj google 3 quelli lanciati con avatar 2 sarà da vedere poi con gli aggiornamenti firmware che arriveranno in questo dj è sempre un po furbacchiona mettiamola così sarà da vedere se poi anche i precedenti modelli saranno compatibili io ad esempio utilizzo avatar 1 come sapete utilizzo i dj integra e non ho nessun tipo di voglia di passare ai google 3 l'altra particolarità è che non abbiamo la scheda sd da poter inserire perché ha a bordo una piccola parte di spazio disco dove poter registrare collegandolo al pc possiamo vedere anche l'hard disk interno del drone 23 giga a disposizione per registrare i nostri video inoltre il dj nio dovrebbe avere la possibilità anche di essere pilotato in fpv e quindi con il classico radiocomando fpv sempre dell'avata 2 ed è qui che forse subentra la vera rivoluzione di dj io ovviamente essendo un drone che ho acquistato e poiché non è un drone che mi ha dato dj non è un esemplare demo per intenderci non posso ancora attivarlo comunque sono proprio curioso di andarlo a scoprire insieme a voi ma soprattutto sono curioso di sapere qual è il vostro pensiero e perché secondo voi avrebbe più senso scegliere uno o scegliere l'altro drone cioè quanto è importante per voi che un drone sia tascabile pieghevole come questo o quanto è importante avere un drone invece che è leggermente più grande ma mi dà la possibilità di fare riprese tradizionali stabilizzate riprese action quindi di inseguimento come d'altronde lo farebbe anche questo ma soprattutto avere anche la possibilità di fare riprese in fpv quindi un mini drone super completo vi aspetto sotto nei commenti perché sono super curioso di capire anche voi cosa cercate quando acquistate un drone a presto a presto